E' un appuntamento speciale quello di stasera per il nostro ciclo di trasmissioni perché abbiamo un ospite che nei nostri studi rappresenta un testimone importante di una pagina di storia molto significativa nella vita del nostro paese nel ventesimo secolo tra gli anni 70 e gli anni 80 ma è col quale parleremo proprio di questo periodo ma che rappresenta oggi il testimone anche di come si possa voltare pagina, come si possa cambiare. Lo presentiamo, lo salutiamo, è Antonio Mancini Buonasera, grazie per essere con noi. Antonio Mancini è stato componente della banda della Magliana il gruppo che negli anni 70 e 80 in particolare ha monopolizzato quelle che sono state le azioni criminali nella capitale e non solo. Veniva identificata come una delle organizzazioni più importanti della cosiddetta delinquenza comune ma perché in quel periodo, gli anni 70 in particolare, gli anni di piombo, c'era il terrorismo ideologicamente segnato, quello rosso, quello nero e ovviamente le forze dell'ordine, lo Stato, dovevano fare i conti con tutte queste realtà. Soprannome a cattone perché ogni componente della banda aveva un solo soprannome Ricordiamo subito perché questo soprannome perché è legato anche ad un film Perché io sono stato sempre un appassionato della letteratura di Pierpaolo Pasolini ma anche del cinema e questo soprannome è venuto fuori perché quando lui fece il film la cattone io già nel libro rimanevo sorpreso e mi dicevo di dire ma questo ci conosce a noi ci descrive così bene. Poi quando è uscito fuori il film io ero rimasto talmente preso che nel cinema pidocchietto della mia borgata San Basilio io stavo sempre là dentro Allora i miei amici hanno iniziato prima con Franco Citti che era l'attore protagonista e poi sono finiti con la cattone quindi è un soprannome Pasolignano diciamo così Diciamo subito che lei ha scontato 15 anni di carcere Io ne ho fatto in tutti e 20 Poi ho fatto 11 anni per la storia, per le faccende della banda, tutte intere E più una decina e più di anni di areste lumiciliari dopo che ho scelto di essere un'altra persona Ecco questo è un capitolo importante al quale arriveremo perché deve essere un po' il light motive di questa nostra chiacchierata Come si può cambiare? Lei ha usato una frase poi appunto la commenteremo Se si vuole si può cambiare intanto diciamo oggi lei vive a Iesi da una ventina d'anni Si si no io vivo a Iesi dal 1996 e il mio arrivo a Iesi è stata la mia fortuna perché ho potuto lì trovare le persone giuste per dare un senso diverso alla mia vita San Basilio ma non oggi pensando agli anni 70 ma addirittura oggi pensando anche agli anni nostri E come dire da lì riuscire a evitare il circuito della malavita non era facile Non è una giustificazione ma contestualizziamo anche Lei tra i 12 e i 14 anni che cosa un po' le è accaduto? Io non posso dire che non era facile poterne uscire o non entrare per niente Solamente dovevi sudare per non resistere a cosiddette tentazioni Perché io per quanto mi riguarda io sono di origine abruzzesi Mio padre era uno di quei comunisti duri e puri A davenire baffone e tutte quelle cose che sappiamo Dal paese abruzzese aveva deciso di trasferirci a Roma per migliorare le condizioni Però a Roma andammo a abitare nel posto sbagliato San Basilio Io dico posto sbagliato perché San Basilio era composto da due blocchi Io li definisco due blocchi C'era il blocco di mio papà Del mio papà Gente che stazzava la mattina alle 5 Andava a lavorare E la sera a tavola la mia mamma per quanto riguarda me La mia mamma poteva mettere a tavola la famosa minestrina fatta col dato star Mentre vedevo c'era un altro blocco dove salsavano quando gli pareva C'avevano pieni di soldi C'avevano belle macchine Facevano una vita diversa Io ingenuamente mi chiedevo perché E quando l'ho scoperto Dovevo scegliere Se sudare come se la sudava mio padre Andavanti con il dato star Ogni tanto mastica la carne insomma E ho scelto di andare nel blocco di quelli sfaccendati Da subito Da piccolo Ho 11-12 anni Ho iniziato con i piccoli furti E poi mano a mano Che cosa è stata la banda della Magliana Oggi dopo 40 anni Come si può definire? In breve a un ragazzo che Magari non ne ha sentito parlare O non sa bene che cosa sia Che è stata la banda della Magliana Per l'Italia, per Roma? Allora io racconto la banda Ma il ragazzo che mi chiede con entusiasmo Il freddo, il tiepido, il libanese Sì, pensando alla fiction, no? E al film e allo sceneggiato Io vengo chiamato Io vengo invitato nei licei Dai docenti Perché Qualcuno mi dice addirittura Che non sanno più Come si chiamano i ragazzi Perché uno è freddo Un altro è libanese Uno è buono Cioè si danno i soprannomi del romanzo I soprannomi Cioè ci hanno fatto quella roba Io non l'ho mai Ricordiamolo per i pochi Che non lo sapessero Che ci stanno ascoltando Che all'inizio degli anni 2000 Giancarlo De Cataldi È uscito con il romanzo criminale Un romanzo Che è ispirato alla banda della Magliana E poi è diventato Un film di Michele Placido Uno sceneggiato televisivo su Sky Che ha avuto grandissimo successo E indirettamente i protagonisti Che siete voi Siete diventati quasi delle star Sì ma sì Eravamo degli esempi Anche perché io Quelle poche immagini Forse il primo a sorprendersi È stato lei Di essere diventato un esempio Il primo a sorprendersi di questo È stato lei Certo Ma io Guardi Io di quel libro Potrei dire qualcosa Non lo dico Perché ognuno scrive Quello che vuole Io la cosa che mi ha dato Fastidio è che Queste fiction Giorni fa Ho fatto un intervento Su una radio Rai Dove dall'altra parte C'erano gli attori De Gomorra Che dicevano No no Ma che noi Mica vogliamo condizionare I guaglioni Così Chi ti ha detto Vuoi puli condizioni Anche se non lo vuoi Anche se non lo vuoi Io per esempio Dico Che le mie fiction Lo sa quale sono state Le mie fiction In fan basilio Nei ragazzini Della mia età Le riunioni Che facevano I ladri La sera In un posto Sterrato Dove si riunivano Prima di uscire In batteria Di 4 o 5 Per andare a rubare Noi ragazzini Ci mettavamo lì E sentivamo questi Rubiamo qua Prendiamo lì Ho preso tutti i soldi Mi sono comprato Sta macchina Erano le vostre fiction La fiction era quella E quelle a me Mi dicevano Stattori Eh ma noi Li mostriamo Come fetenti Perché li andiamo Facciamo Mostriamo Che vengono arrestati Nelle fogne Sottoterra Non so dove A me me ne fregava niente Dall'arresto Perché all'arresto Non ci arrivavo Io arrivavo Alla macchina bella I soldi in tasca Era quello l'obiettivo E poi senta Ma il ladro La sera Esce E c'è qualche dubbio Che lo possano arrestare No Non ce l'ha Sono tutti convinti Io sono furbo A me non mi arrestano Quindi lasciamo stare Come li mostri Dopo che li arrestano L'importante è quello Che tu Fai capire ai ragazzi Una parentesi Così chiudiamo Proprio legata A una delle frasi Simbolo di questa fiction Piamo se Roma La frase detta Dal libanese Che in realtà Nella realtà È Franco Giuseppucci Il negro Ma la disse davvero A un certo punto Piamo se Roma Alla banda Che era il salto di qualità Da banda di quartiere Diventava la banda Protagonista Nella capitale Io ho scritto alcuni libri Dove parlo di queste cose Come è nata la banda Non dico manchi i titoli Se no pare che mi sono voluto Dopo li dico io No no Non fa niente Non c'è problema Io vengo per raccontarmi Per la cronaca Io mi autoanalizzo Scrivendo No ma non è così Come è nata la banda La banda Sì la frase Piamo se Roma Ma non l'ha detto Il libanese L'hanno detto Altri personaggi Che hanno veramente Creato la banda E tra questi Di Colino Selis Il libanese è entrato dopo Poi libanese Giuseppucci Libanese perché Non lo so io In realtà era detto il negro La frase c'è stata Ma perché Perché Roma Come stanno diventando Adesso le città Di tutta Italia E mano a criminalità Del sud No Vengono e diventano i padroni No questo Non lo potevamo permettere Perché noi Non è che eravamo ladrugli Noi eravamo tutti rapinatori C'avevamo il coraggio Di attaccare i furgoni blindati E se preoccupiamo Da quattro persone Che vengono qui E ci vogliono imporre Il discorso loro Quindi la nostra è nata Come organizzazione Per dire Da oggi in poi A Roma C'è stiamo noi Non è che siete Invegetato a per voi Entrare Ma dovete bussare Quindi fate più Da padroni Tutto qua Un'ultima curiosità Di questa prima parte Della sua vita Poi parliamo Della seconda C'è una frase Re sola Durante una rapina Una città del centro nord Io A terra A terra A terra A terra A terra Quindi Il castigato Diciamo così Vigilante E bloccato La prima cosa che ha detto Erano romani Allora Quello che era L'organizzatore Dell'era Pina Un certo Gianfranco Urbani Detto al Pantera Che nella fincia Nel Puma Nel Puma Non so che cosa E Mi disse Cerca di parlare italiano Fermali in un'altra maniera Quelli che Gli uomini armati A protezione dei soldi E allora io A forza di pensare Ci mi è voto in mente Questo Bumaie Che non significa niente Per chi l'ascolta Ma in realtà È una frase Che Gli spettatori Dello Zaire A Ghishac Durante l'incontro Di box Fra Ali Muhammad Ali E Foreman Con Ali in difficoltà Si alzarono tutti in piedi E urlavano Ali Bumaie Ma no uccidilo Vinci Cioè uccidilo Ali Bumaie Allora mi sono ricordato Bumaie Bello Ci pierano per Fedayin Perché allora Era un tempi in cui A Roma Era un depistaggio Sì Vengono i palestinesi A fare Lei all'inizio Degli anni 90 Vediamo la seconda parte Di questa sua vita La prima molto Come dire Molto rocambolesca E anche E anche drammatica Lei a metà degli anni 90 Inizia a collaborare Con la giustizia Anche se non si è mai voluto Definire un pentito Io una volta Io una volta sono andato A fare una trasmissione Con Franco Di Mare Conoscete tutte le sinistre Poi Sinistre Vabbè E Federica Caccarelli Loro chiesto Caccarelli Gli dici se ci viene A fare l'intervista Caccarelli Giornalista O prete O quello che passa Il pentimento Se c'è Io lo esprimo A quello lassù Se c'è E ci credo Tu mi devi domandare Faresti più Quello che hai fatto Perché non c'è niente Da pentire Io mi posso pentire Se adesso In un momento di rabbia Ti dirà A sedia Poi anche Ti dico scusa No Ma come io Mi appostavo Stavo giorno e giorno Appostato Per fare reati Poi Quando mi arrestano Mi pento E poi Io questo ci tengo Io prima di collaborare Con la giustizia Io mi sono fatto Tutta la mia condanna Non è che Io mi sono fatto La caliera Per uscire Sono pentito Per uscire Dalla caliera Io mi sono fatto Prima di 11 anni Di carcere Dei cosiddetti 41 bis E poi Quando sono uscito Prima si chiamava Articolo 90 Oggi 41 bis Poi quando sono uscito Mi sono detto Devo continuare A vedere anche La seconda figlia Attraverso i veti blindati Con questi Che ancora carminati Mi parla Dei malavita Dei cosi Dei morti Mandatevano A quel paese E a faccia scoperta Le vedi Io vengo qui Vado per tutto Quando vogliono Che mi tocca Lei lo sa Che però Le dichiarazioni Della cattone Quindi le sue Dichiarazioni Hanno aiutato Inquirenti Anche a capire Tanti collegamenti Tra la banda Della Magliana E tanti fatti di cronaca Di quel periodo Pecorelli Aldo Moro Guarda Prima di me C'erano stati altri La stessa Bomba Di Bologna Insomma Lei ha parlato Di tante cose Io ho fatto anche La stessa Emanuela Orlandi Sì Io ho fatto anche Il processo Qui a Perugia Con Due grandi magistrati Cardella E Cannevale Sono stati assolti Ma nei processi Può essere Innocente Essere condannato O colpevole Essere assolti La verità Non ce l'hanno In tasca I giudici Comunque Io Quando ho iniziato A collaborare Ho detto subito Lasciamo sta letta Di cocaina Letta di eroina Perché loro Volevano I contatti Fino allora Gli avevano raccontato Le piccole cose La rapina L'omicidio Cose che sapevano Benissimo E io ho cominciato A dire le cose Che sapevo Sull'omicidio Pecorelli Sulla Orlandi E su altri segreti Moro Che ancora Non era stato detto Nessuno E per quanto riguarda Moro Oggi Ampiamento Confermate Da uno dei protagonisti Di quel Contatto politica Criminalità Che era Raffaele Cutolo Lei ha detto Devo tutto A un ispettore di polizia Di Iesi Angelo Sebastianelli Che mi ha aiutato A reinserirmi Nella società E così Sì perché Io lo dico Perché tra poco Sentiremo un'intervista Sì perché Io sento Quando i pentiti A parte Sperta che noi Sguazziamo Nel loro Non so Ci abbiamo detto Che agevolazioni E poi non è vero Che noi veniamo Seguiti Passi fa Anzi Anzi Diventiamo pure nemici Per certi personaggi Delle strutture Capito Amministrare Giudiziare Carabiniere E io Quando ho finito Della mia collaborazione Mi hanno detto Prendi il facottino E smamma Io devo fare due cose O ritornare al criminale O ammazzarmi Non sapevo fare niente Non è Ma parlavano Degnità Poi mi sono accorto Che la dignità Ce l'avevano loro Ma la potevano dare a me E quindi Ho detto Qualcosa devo fare Un giorno stavo Agliesi Che camminavo Per conto mio Per capire cosa Potevo diventare E vedo passare Un po' meno Dei disabili E c'ho come Quelle consapevolezze Una folgorazione Io che le chiamo sciamaniche Consapevolezze sciamaniche Più mamma mia Chi sono questi Perché non li avevo mai visti Con la vita che avevo fatta Sapevo l'esistenza Ma mi potevo preoccupare Dei disabili Quando c'avevo da preoccupare Ma guardare le spalle io E sono corso D'Angelo Sebastianello Il commissario Che loro era un giovane ispettore E io ho raccontato Sta cosa E lui mi disse Cioè io vado Al comune di Iesi A perorare la tua causa Che vuoi salire sul pulmire Ma sei scimo Ma mi cacciano via No Io ho tanto insistito Che lui l'ha fatto E quando mi disse Tutto a posto Io dico Ma sta piangendo Invece è tutto a posto Quindi io ringrazio Angelo Sebastianelli Perché Che ha avuto coraggio Ma ringrazio anche Il comune di Iesi E le associazioni Della disabilità Ampas Che oggi Che non ci sono più Sul pulmino Continuano a reclamarmi Ma io non ho più l'età Sai Da una sessanta A cinque anni Ti fanno scena Perché dicono Che sei vecchio Io non mi sento vecchio Io le faccio ascoltare adesso Un estratto di un'intervista Che fece alcuni anni fa Al generale Antonio Cornacchia Generale Carabinieri Famoso perché Aveva catturato Vallanzasca Perché ha aperto Tra quelli che ha aperto L'Areno 4 di Aldo Moro Insomma un protagonista Di quell'epoca Sull'altra parte della barricata Quella della giustizia Sentiamo una battuta Di questa sua intervista E poi la commentiamo insieme Parlare di Vallanzasca Mi riporta A quel famoso detto Dice È necessario Oppure è sufficiente Che si parli O parli bene O parli male Purché si parli Io ho premesso Personaggio Tra virgolette Perché Purtroppo Pur essendo un personaggio In negativo E' uno di quelli Come tanti altri Che io poi ho definito Carnefice nel mio libro Per distinguere dalle vittime Che mentre i carnefici Purtroppo Come lo stesso Vallanzasca Oggi E' portata A godersi ancora Della luce Della ribalta Le vittime Invece Sono quasi Dimenticate E questo è il mio Cruccio Il mio cruccio Innanzitutto come cittadino Ovviamente con la sua sensibilità Con la sua umanità E poi anche come carabinieri Giustamente lei ha detto In prima linea Naturalmente In prima linea Unitamente i miei collaboratori Che in quel periodo Ci siamo trovati in prima linea E abbiamo cercato Di fare del nostro meglio Per affrontare E possibilmente risolvere I gravi problemi Cui il paese Era sposto Queste le parole del generale Antonio Cornacchia Che Diciamo Da uomo della giustizia Separa I carnefici Dalle vittime Allora io chiedo ad Antonio Mancini Appunto Ex componente Della banda della Magliana Pensa oggi O mai pensato Alle vittime Allora In quell'ambiente In quei contesti Non ci pensi Ci deve venire Il famoso lavaggio Del cervello No Le modifiche Io ci penso Ma Che io vengo da lei Dico Quanto sono dispiaciuto Per le vittime Non me la sento Ma pare un atto di ipocrisia Preferisco Divermela da solo Pensare Ma che ho combinato Ma a me quello Che mi aveva fatto Mi aveva fatto niente È stata una scelta mia Ho sbagliato A chi vada a chiedere Perdono e scusa Io devo soltanto Che ne so Autopunirmi Magari impiccarmi Magna faccio Perché finisco venire qui A raccontarmi E dirti Se potete Salvateli Mancini Antonio Prima che diventano Mancini Antonio Perché dopo Non puoi dire È diventato Mancini Antonio Io guardi Io non do colpa alla società A me sto fatta Quella della società Anche perché Io quando ho bussato Alla società La società mi ha aperto No? Mi ha spazzati sui brumini No? Ho gli amici I più disparati Di tutte le categorie Quindi La società Mi ha abbracciato E però La società Invece di mandare a me Brumotti Quello che va Con i cartelli A San Basilio Nelle periferie A dire Questi sono spacciatori Ma perché le guardie Non lo sanno Che sono spacciatori A me non mi dovete Mandare le guardie A San Basilio O a Scampia Cioè Mandare i sociologi Cioè Mandare i psicologi Gli assistenti sociali Il teatro Il giornalista intelligente Che dice Fammi capire Perché questo Sta spacciare la droga Cioè Creare un'alternativa Eh certo Perché quello Che è successo a lei A San Basilio Succede tutti i giorni A te per tutto Nelle periferie Di tutta Italia Io ripeto Io ci tengo a dire Che nella mia razza No fammi era Prima di me Non c'è stato Nemmeno Uno che c'ha avuto Un problema Con la giustizia Per la contravenzione Quindi non è vero Tale padre Tale figlia Le periferie Non è vero niente A me Mio padre Durante I miei percorsi detentivi A me Non mi è mai venuto A trovare Perché era rimasto Tutto È venuto Dopo la pensione È qualche mese Prima di morire Se vedete Che se lo sentì E mi è venuto A trovare in carcere Certo Quindi I pregiudizi Sono Peggio Di una condanna Perché tu nel momento Che hai il pregiudizio Che mi hai già condannato Certamente Sicuro Lei ha scritto tre libri Adesso dico Prima non li voleva pubblicizzare Ma li dico io i titoli Con il sangue negli occhi Quello con la Federica Sciarelli Qualcuno è vivo E tre secondi soltanto In cui c'è un protagonista Che ha un altro nome Ma che in realtà È Antonio Mancini Sì Quindi è un'autobiografia Questa trilogia Io ho detto prima Per me scrivere E fare autoanalisi E liberarmi Da tutte le scorie Che ancora sono Perché non è che Tu diventi Vai lì Pulisci il mocciolo Al disabile Sei diventato No no Io Percorso è più lungo No ma credo Che non si cancelleranno Mai no Perché sono cose Che non sono Bazzeggole Non sono bagatelle No Mi aiuta A tirare fuori Quello che Magari anche Con toni duri No Io penso Che i toni duri Erano più Una richiesta D'aiuto Diciamo così Di intervento No Perché se io Oggi sono così Che il mocco Poter far attraversare La vecchina È possibile Che ero così Fia da una mignotta Una volta Qualcosa di buono Ci doveva essere No È solo Bisogna tirarlo fuori Era un po' più difficile Io non ho fatto niente Per tirarlo fuori La mia famiglia Ci ha provato Ma Ormai ha capito Doveva venire dall'esterno E farmi capire C'è qualcosa di scomodo Non l'aveva mai Non l'aveva mai detto Nessuno Con il sangue Agli occhi Della sciarella Ci sta Nome e cognomi Anche se qualcosa Non tutti Ce la sentono Di scrivere Ma tutto ciò Che è scritto Non l'aveva detto Ma nessuno La banda era quella Che ammazzava la gente E basta Di Moro Della storia De Petis Quando viene ucciso E i soldi Che svolazzano Dal monsignore Nei tribunali Perché tu Non lo dici Il Vaticano Ma il monsignore Non è che sta dentro Alla birreria Insomma Quindi c'è Tutte le cose Ma poi a me Si sta scomodo A De Petis Me ne può interessare De meno Cioè a me Quello che dico Io sono consapevole Che prima o poi Potrebbe anche Arrivare la motocicletta No? E vabbè Sono arrivato Tante volte io Una volta Arriverà qualche D'un altro O no? Te mando D'Adriano Diceva sempre Eh? Diceva sempre Te mando D'Adriano Che è il suo padre Chi va per stimare Diceva De Petis Chi va per stimare Ti pesci via No? E io ci aggiungo Quando ti tocca Ti tocca Quando è uscito fuori Roma Capitale Cosa ha pensato? Lo scandalo di Roma Capitale Carminati Che cosa ha pensato? Siamo alle solite Non è cambiato niente No no Ma Ma te ha capitato Non è altro Che l'evoluzione Della banda della Magliana La banda della Magliana È iniziata come quella Che doveva Mettere A posto Diciamo così Gli invasori Sudisti No? Poi sono entrati Quelli che hanno cominciato A avvicinare I servizi segreti Tipo Giuseppucci Abbruciati E si è allargato Con le conoscenze politiche Dentro agli uffici giudiziari E poi è arrivato De Petis Che l'ha trasformato In imprenditoria La banda della Magliana È diventata un S.P.A. Ma ci sono intercettazioni telefoniche Dove Massimo Carminati No? Carminati Mafia capitale Si rivolge a De Petis Con l'appellativo Presidente Ma un magistrato gli ha chiesto Ma Presidente di che? Presidente di che? Quindi Quello che lui Perché la differenza Fra noi Maglianesi Diciamo così E De Petis Era che Noi si accontentavamo Di battere i piedi Su marciapiede Fare le guerre Lui no Lui stava dentro Al potere Io dico sempre Ma seriamente Perché ne sono convinto Sai De Petis È morto incensurato Lei lo sa? 1990 Incensurato Ma che gliel'ha pulito Questo là Stava al Parlamento Con sottosegretarato Ma io ci metto la mano sul fuoco Certo È una storia Ebbene La storia d'Italia Diciamo che Da questo punto di vista Potrebbe infatti anche Ispirarci qualche esempio Io andrei a chiudere Questa chiacchierata Che è illuminante Sulle vicende di quel periodo Ma anche sulla storia Di un uomo Antonio Mancini Che dimostra Con la sua vita Con la sua autoanalisi Che fa scrivendo libri Che si può cambiare Ecco Il messaggio che Lei Dà di solito Anche ai ragazzi Che incontra a scuola Perché lei fa incontri anche a scuola E che dopo aver pagato i conti Perché quello è importante Dopo aver pagato i conti Con la giustizia Lei si è ribellato E lei dice sempre Basta volerlo davvero Si può cambiare È così Io dico così Molto 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 colorato Oltre il mare Non si può andare Non c'è niente Non dove hai Cioè quando superi i limiti Ti viene per forza Una ripuzza Se c'hai un attimo Un barlume di sensibilità Di riflessioni Cioè dopo che hai visto Cadere la gente Insanguinata Dentro ti rimane Io a me mi dicevano Che provavi Quando ammazzavi Niente Come niente E niente Mi dicevano Che farlo Lo devo fare Perché se no Quello lo facevano a me Ma dopo Dicevo perché Parlo io a te Parlo a me Ma che senso C'ha questo Ma cosa ti lascia Niente O no Io oggi parlo De disabilità Io ma Ah disabilità Oggi vado nelle scuole E quando Alla fine I docenti Mi dicono Che consigli Dai Ai ragazzi Io dico Io non c'ho Consigli Da dai Perché se no Sai la canzone Di Andrea Aveva Comare Che dà buoni consigli Perché non può diventare Non può dare Più cattivo esempio Io ai ragazzi Dico Di studiare Anche se lo studio Non so A cosa posso servire oggi Però è una cosa serve Ti aiuta A capire Se chi ti gira intorno È un farabutto O una persona Che ci tiene veramente Alla tua persona A questo serve oggi E io spero E io spero che loro Ci riescono Io non l'ho capita Perché non c'avevo Gli studi Non ero pronto L'ho voluto io Quello che vuoi Però non ero Non c'avevo l'armatura Per dire No questa cosa No la voglio fare No la devo fare Io la ringrazio Mancini Qui Mancini C'è stato il generale Cornacchia Alcuni anni fa Facevano parte di posizioni diverse Della barricata E lo dico subito ai telespettatori Non è che un'intervista vuole riscrivere la storia Sappiamo chi era la giustizia E chi era la malavita E qui non è che Mancini è venuto a dirci Non è vero questo Ma la testimonianza di questo signore È straordinaria Perché ha saputo cambiare Perché ha saputo voltare pagina E sta dimostrando Che si può ricominciare Non è perché voglio Lo dico io poi No 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 Stai facendo troppo lungo No no Io adesso Non è perché voglio Imbellirla no Sì Io sono Ho i testimoni Mesi Perché ogni cosa che succede a Roma Ti arriva il giornalistone no Che chiede il commento Brava Che vuole sapere Io oggi Manco io rispondo A parte che abbiamo fatto Una bella intervista A parte che lei mette A suo agio L'intervistato Grazie E poi oggi Per riscannare In questi piccoli contesti Piccoli Si fa per di no Perché mi sento più libero So che quello che diciamo Viene mandato in onda No questo lo dimo E quest'altro Lo potremmo dire Quindi sono io Che ringrazio Lei La redazione Grazie Grazie Mancini Anche per questa testimonianza Perché insomma Non le nascondo Che qualche volta C'è anche chi dice Che non è così Ma insomma Lei è testimone Del fatto che Quello che si dice Assolutamente Va in onda È un altro capitolo Di una storia recente Che magari i nostri figli Non leggono sui libri di storia Perché non ci si arriva Purtroppo agli anni 70 Perché spesso Non c'è tempo Nei programmi scolastici Di approfondire Ma anche Il terrorismo La banda della Magliana Gli anni di piombo Rappresentano Una storia fondamentale Perché oggi siamo Quel che Anche il frutto Di quel che è successo 40 anni fa Sono già passati Tanti anni In bocca al lupo Antonio Mancini Perché ancora Tanto da dire Tanto da fare A Iesi Che non è poi Così lontana da qui Che non è così lontana da qui Grazie a chi ci ha seguito E appuntamento Alla prossima puntata 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 Grazie a tutti.